Io sono Lia25Fabbie e oggi siamo su questo nuovo video giocheremo ad adorarsi più volte il più gioco che potrò Ragazzi per il momento che si carica vi spiego il mio canale sarà formato ovviamente metterete il link in descrizione per i giochi che volete vedere per il momento aspettiamo dopo scegliete voi i giochi tipo Minecraft, Fornet scegliete anche un po' di Clash Royale se volete Aspettiamo Poi scrivetelo nei commenti anche i giochi che volete vedere voi non solo i miei ovviamente anche i vostri giochi preferiti se vi è piaciuto non lo aspettiamo non lo aspettiamo Ragazzi siamo pronti questo ovviamente è il mio primo video sul canale quindi siete carichi e si gioca spero che vi piacerà Allora scriviamo come ci chiamiamo scriviamo lo potremmo scrivere tipo oh per là risoluto slowly ok abbiamo fatto adesso palliamo fra inanza e si gioca ah no dai 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 ok allora ragazzi per il momento parleremo allora poi tipo vi porterò minecraft tipo se minecraft faremo una nuova serie una serie di minecraft dove giocheremo dei giorni tipo scegliete tipo possiamo fare il lunedì e giovedì fornit martedì o se no mercoledì venerdì scegliete voi mi va bene intanto cerchiamo di qualcuno prendiamo i punti che sono qui da mezz'ora che sto cercando di cedere uno no porca cacca no ragazzi ma se dobbiamo andare bene al top 10 top 10 tutto forte ok forza ragazzi ce la posso fare nooo porca vacca è quello là per poco per poco del fuoco dai ovviamente a fine ovviamente seguita anche un amico che si chiama alex 1200 zentorno seguitelo a lui a 50 scritte iniziato da sei mesi un po' da sei mesi qualcosa è un po' bravo però dove fa alcuni giochi però pochi tipo un gioco fa però ovviamente andate a guardare il suo canale e adesso sono morto ragazzi 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 così ragazzi 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 dobbiamo arrivare a 11.000 oh ma no sono stupido sono stupido non l'ho visto questo è il primo video che farò quindi non criticatemi se faccio un po' scrivere un po' d'ansia ce l'ho nel mio primo video ragazzi ovviamente non so se riuscirò a fare a fare molti video per il momento perché ho le verifiche finali sicuro in estate ne farò tanti in estate però per questo momento non tanti perché ho appena iniziato a fare il mio primo video poi con la scuola le verifiche finali forse non riesco a farne tanti massimo forse forse uno al giorno vedremo qui ragazzi cercavo di colpirlo però niente mancava poco poi ovviamente ditemi se vuoi che gioco insieme a quello ecco gioco no ma l'avevo colpito no no fa lo stesso dai il mio record per il momento che non ho mai superato è 11.920 facciamo un'altra partita per il momento ammazziamo bene 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 no no devo cercare ti faccio allora proviamo comunque non porterò solo questi questi giochi dopo anche tipo Clash Royale o altri giochi vari poi se volete tenere tutte le notifiche tutte le notifiche aperte guardate praticamente il link di iscrizione nel link vedete la pagina dove c'è dove c'è la campanellina attivate e dopo lì ogni volta che uscirà un video ve lo segnerà adesso cerchiamo di inglobare qualcuno se riusciamo ho due piccole due piccole no forse zero no due piccole almeno quello almeno qualche punto ce l'ho ce l'ho ragazzi io spero che questo video vi piace poi ovviamente farò altri video però spero molto che vi piacerà questo video facca 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 possiamo cercare di ammazzarlo facilmente non rischio boom morta ok dai ce la possiamo fare no porca vacca volevo girare volevo girare ma non ce l'ho fatta no dai manca poco facciamo le ultime due e basta e sacco no dai facciamo l'ultimo e basta anzi forse anche un po di più dai forse cambiamo pure gioco dai adesso proveremo se volete tipo giocare Clash Royale proviamo a giocare sicuramente dai dai ci dobbiamo fare no dai niente un'altra volta se riesce allora giochiamo a Clash Royale anzi no basta 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 per il video ciao ciao